Il camper. Oggi Peppa e George sono molto emozionati. Stanno per andare in vacanza. Ecco che arriva Papà Pig con una macchina molto strana. Che cosa sarà? È un camper, spiega Mamma Pig. Che sorpresa per Peppa e George. Quest'anno Mamma e Papà Pig hanno noleggiato un camper per andare in vacanza. Il camper è più grande di una macchina. Infatti ci si può anche dormire dentro. E c'è anche il bagno. Ce ne andiamo in vacanza con un camper giallo, canta Peppa contenta. Papà Pig controlla la strada sulla cartina. Ma è una cartina un po' complicata. Ci siamo persi? chiede Mamma Pig. Oh oh, credo di sì, risponde Papà Pig. Per fortuna, proprio in quel momento, arriva Nonno Cane che spiega a Papà Pig che sul camper c'è il navigatore. Un computer speciale che aiuta a trovare la strada giusta. Papà Pig accende il navigatore. E come per magia, il camper comincia a parlare. Ma papino, il camper sta parlando! esclama Peppa a sorpresa. È la voce del navigatore. Se gli dici dove vuoi andare, lui ti dice quale strada fare. Così non ci perderemo più, le spiega Papà Pig. A Peppa piace parlare con il navigatore. Ora la famiglia Pig può ripartire. Ma poco dopo si accende una lucina rossa e la voce del camper avverte. Pericolo! L'olio sta per finire. L'olio è importante perché aiuta il motore a girare senza difficoltà. Per fortuna Papà Pig ha una lattina d'olio di riserva. Ma non trova il motore. Dove sarà finito? Arriva mamma pecora con la figlia Susi. Ciao a tutti! Che cosa è successo? chiede. Abbiamo perso il motore del nostro camper! esclama Peppa. Mamma pecora non è un'esperta di motori, ma prova ad aiutare Papà Pig. Ecco svelato il mistero. Il motore del camper non è davanti, ma dietro. Grazie all'aiuto di mamma pecora, Papà Pig può mettere l'olio e il camper può finalmente riprendere il suo viaggio. Peppa e Giorgio sono un po' stanchi. Siamo arrivati! esclama finalmente Papà Pig. Evviva! rispondono gli altri in coro. Ormai è scesa la sera e tutti sanno che quando il cielo è buio e le stelle brillano è arrivata l'ora della nanna. Dentro il camper c'è proprio di tutto. Ci sono le tendine, il divano, i fornelli, il frigorifero. Ma i letti dove sono? Niente paura piccoli miei! dice Papà Pig. Ora vi faccio vedere come il divano si trasforma in un lettone. Io e la mamma dormiremo qui. Che bel lettone! esclama Peppa. E dove dormiamo? io e Giorgio chiede poi. Per Peppa e Giorgio è pronta un'altra sorpresa. Perché il tetto del camper si solleva e... Guardate, i vostri lettini sono al piano di sopra! dice mamma Pig. Se i nostri lettini sono al piano di sopra, allora il camper è come la nostra casetta! esclama Peppa. È vero! dice mamma Pig. E durante le vacanze sarà proprio questa la nostra casetta. Ma con ruote e motore e una voce molto carina! Fine